L'ultima compagna di Modigliani Che ha vissuto una specie di bohème da cinema Era di un'eleganza naturale che solo poche persone hanno Che non si può né acquisire, né comprare, né imparare Era prendere o lasciare Era una personalità che si divertiva a sfidare il mondo Proponendo la propria autenticità Probabilmente è morto proprio nel momento in cui Se fosse vissuto sarebbe diventato ricco Insomma, ce le aveva tutte Penso che il fatto di dipingere lo aiutasse a entrare in un suo universo E a isolarsi rispetto al mondo C'è qualcosa di arcaico e qualcosa di ultramoderso Tutto vero e tutto sognato e tutto inventato Non ci sono orpelli, non ci sono abbellimenti Non ci sono dettagli Il viso è una maschera Quello che a Modigliani interessa Quello che cerca è l'anima Ciò che sta dietro Ciò che una maschera non mostra Sappiamo che ci ritroveremo Ce lo siamo giurati Io e te